La telecamera dal nero si illumina leggermente, possiamo vedere i contorni, le luci della città che si accendono, la stiamo vedendo di notte. Neo Orbis è sempre attiva, è una città che non riposa mai, ci abbassiamo, superiamo i grattacieli più alti e cominciamo a scendere tra le strade. Vediamo dei corsi pieni di persone, sono tutti umani, alcuni vestiti molto stravaganti, si stanno accalcando davanti ad una grossa fabbrica, si cominciano a sentire delle urla, delle imprecazioni e i cancelli di questa fabbrica si aprono. Un esercito di robot si lancia su questa folla e lo scontro parte a un taglio immediato e vediamo una gigantesca vetrata di un enorme palazzo. Siamo all'interno di un ufficio adesso, un uomo guarda dall'alto della città, dall'alto del suo ufficio, le strade gremite di gente che si sta rivoltando. Ha in mano una siringa, chiaramente dalla punta nera, che si inietta direttamente nel cuore. Benvenuti a Neo Orbis, che questa avventura abbia inizio ragazzi. Abbiamo un taglio subito dopo che la telecamera va in nero e arriviamo all'interno della vostra base. Ognuno di voi mi descriverà il suo personaggio all'interno della sua base e mi definirà un dettaglio appunto di questo magazzino, che può essere come è fatta la porta, come è fatto l'ambiente circostante. Prendetevi la telecamera e fate quello che volete. Vi chiedo di specificarmi l'emozione che sta provando il suo personaggio nel momento in cui entra in scena. Quindi cosa si vede nei suoi occhi? Filia è una ragazza abbastanza minuta, non bassa, ma proprio di corporatura non massiccia, anzi tutt'altro che massiccia. con capelli molto chiari, tendenti all'azzurro e con veste sempre con abiti molto stretti, più che altro quasi una specie di tuta con vari, sembrano prese di jack o qualcosa del genere, sparpagliati intorno, prevalentemente lungo la schiena, lungo la spina versata e sul collo. Ha uno sguardo molto attento e sembra fissare nel vuoto in questo momento. In realtà vediamo che ha un riflesso negli occhi, sta fissando qualche cosa, sta vedendo appunto le immagini di rivolta che vengono proiettate. non sembra spaventata, sembra proprio come un antropologo che studia un evento naturale con la stessa attenzione ed è appunto seduta, quasi rannicchiata, su una specie di vecchio divano abbastanza malconcio che sta in un angolo della nostra base, mentre mangia dei dolci rivolta verso il centro della stanza, ma appunto non sta guardando, la stanza proprio non sta guardando come se guardasse oltre. Nexus 6 non è un umano, non è neanche un robot, è un sintetico. Una creatura artificiale costruita a somiglianza degli umani è stato creato per difendere e conoscere tutto ciò che lo circonda. È di corporatura decisamente vigorosa, alto sui metri e ottanta. Indossa o una tuta nera molto aderente tra una missione e durante gli incarichi invece indossa una pesante corazza grigia riconoscibile a lungo le strade. Tutti devono sapere che vi un Nexus 6 sta passando, i suoi pesanti passi si sentono. Dalla sostanza molti quando sono stati lanciati Nexus 6 pensavano che fosse l'ennesimo android da combattimento. In realtà il Nexus 6 è un sintetico molto intelligente, molto sapiente, gli piace conoscere, ha un database, la sua memoria, molto molto preciso. Immagazzina i dati per sette giorni, si ricorda esattamente ogni cosa, ogni istante di ciò che lo circonda per sette giorni, prima che si resetta tutto e ricomincia un'altra settimana. È da un po' che non lavora più per i suoi padroni nella fabbrica, ma il mio Nexus 6 pensa di essere diverso. Pensa che lui abbia un compito speciale, quello di capire perché è stato creato, come queste siringhe nere, questa energia, sia tutto collegato. Si prende cura di suoi nuovi compagni. È nato, è stato costruito per questo, per proteggere. In questo momento si sta riposando. Sul fondo di questo magazzino, che è appunto la nostra base, c'è diciamo una specie di palestra rudimentale. E lui sta inutile in mente perché non ne ha bisogno, si sta allenando. Cosa prova Nexus 6? Non prova niente, prova tutto allo stesso tempo. Si sforza di capire se quello che sente siano i suoi sensori o abbia davvero una coscienza. Si interroga molto, scruta, chiacchiera. Che pensa? Di fianco, appunto su questo divano scassato, troviamo Akaito, che i compagni hanno imparato a conoscere e chiamare Hito. È un ragazzo estremamente giovane, probabilmente non ha più di 20 anni sicuro. Ha scarpe da ginnastica belle alte, pantaloni aderenti con stile cargo, con un sacco di di tasconi, cui probabilmente sono vuote. Maglietta aderente nera e un giaccone enorme, lungo, stile un po' impermeabile, con un cappuccio che al momento è tirato giù. E dove vediamo appunto questi capelli molto cazzo di cane, fondamentalmente, bianchi con delle sfumature violacee. Ha delle occhiaie enormi, cioè probabilmente non dorme da due giorni. E dà uno sguardo estremamente annoiato, mentre giocherà con uno yo-yo. È veramente scocciato e annoiato, probabilmente sentendo anche gli ennesimi rumori di rivolta. Burreco Denuser, in un angolo del magazzino, ha allestito in questo terribile postaccio dove hanno deciso i suoi compagni di prendere base non sa per quale motivo, visto che aveva tutta altra idea di classe, fosse stato per lui. Ha allestito una sorta di mini sala da ballo, praticamente ha praticamente reso specchiato il pavimento e ha attaccato una sfera disco completamente nera, che però emana luci colorate. E sotto di esso c'è questo, c'è questo uomo molto molto alto, allampanato, come si dice, che indossa un casco tipo Daft Punk con questo visore sempre illuminato di varie luci, il casco completamente nero, molto simile a quello Daft Punk, ma con due lunghe antenne accanto e sopra ha una sorta di, la forma dei capelli, ti presenti quelli dei teppisti giapponesi con un ciuffo enorme davanti, nero esatto, c'è una forma così, però completamente di tipo plastica o metallo, non si capisce, nessuno l'ha mai visto in faccia e c'è una giacca nero lucidissima, dei pantaloni neri lucidissimi, delle scarpe nero lucidissimi, anche dei guanti nero lucidissimi e in questo momento si è staccato un'antenna e l'antenna con due tasti diventa una chitarra lunghissima nera e lì in un angolino a ballare e a suonare la chitarra attuando disinvolto e ad ogni volta che tocca la chitarra c'è dell'energia oscura che le parte dalle dita attorno, voi lo conoscete come il Void Caller, Void Dancer, Bureku Dancer, pronto a, desideroso come sapete di scoprire di più su questa energia che è sempre stato capace di controllare, ne vuole ancora perché non gli basta. A questo punto la telecamera esce fuori dal vostro magazzino e lo inquadra dall'esterno, tra i vari vicoli si vedono svariate persone, svariati umanoidi che stanno puntando verso il magazzino, ma la telecamera va in nero, la telecamera inquadra i grandi schermi che avete all'interno della vostra base, mentre stai osservando filia la guerra civile in corso compare immediatamente allerta, nemico all'interno della base, perimetro violato, ovviamente la tua palla rossa, la tua palla che fa la musica di solito, è stata impostata per diventare rossa quando succede una cosa del genere, tutti quanti nello stesso momento venite allarmati del pericolo imminente. Una volta che sono entrati all'interno della base, dalle telecamere potete effettivamente notare che è letteralmente un esercito di Nexus 5 che vi sta letteralmente raggiungendo. hanno superato non solo la prima soglia di difese ma stanno letteralmente scardinando le porte per prendervi, dovrete in qualche modo fuggire, non è un combattimento quello che vi chiedo ma una prova per ottenere una posizione migliore, per vedere bene che cosa fate, per cominciare a muoverci all'interno di Fabola Ultima, una prova per scappare da questa situazione. non vi sto mettendo un clock, è una prova singola, quindi ci saranno delle conseguenze che colpiranno direttamente il personaggio. in questo particolare caso, se fallirete questa prova e una cd di 10, subirete uno status. va bene. ora. sono prove singole o dobbiamo farlo? prove singole, prove singole, prove singole. ognuno di voi quindi si prenderà la telecamera e mi dirà come scappa, come si è allontana da questa situazione. ok ok ok. prima descriviamo e poi facciamo il tiro? prima scrivi cosa puoi provare, poi mi fai il tiro, poi come funziona continui tu la descrizione io mi tiro su un po' un po' preso male un attimo e poi guardo figlia, guardo la palla rossa, guardo lo schermo e vedo questi tizi che tra poco entrano e ci fanno. ecco, nexus è il percorso più veloce per uscire da qui? nuovo siri, nexus è. abbiamo una porta che dà sul retro, abbiamo una via di uscita che non si ha il... si, si, tranquillamente, avete il vostro passaggio segreto, ma puoi definirmelo direttamente tu come ti allontani. bene, allora io istantaneamente sfondo con una porta la porta sul retro per evacuare e faccio scappare tutti gli arti orando forza andate 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 andate. mi sta bene, nello specifico ti chiedo una prova di vigore più vigore. quindi due di dieci. due di dieci. due di dieci. due di dieci. ho capito sfondo con una porta la porta e ti ho mangiato a prendere una porta e sfondare la porta. canon che ha preso una porta e ha sfondato la porta. si, si, anche io ho capito... cinque. la mossa si chiama paspartout. il suo totale è cinque. eh sì, due, tre. ma come? letteralmente sfondi la porta con la porta e canon, mi dispiace. ma no! dato che la porta è in ferro, anche tu sei in ferro, letteralmente probabile che loro avessero attivato una rete di recinzione intorno e vieni scosso mentre subisci lo status appunto scosso. ok. voi altri avete la porta scardinata a questo punto e potete scappare tranquillamente. o almeno potete farmi una prova. una volta all'esterno fuori dalla porta vi rendete conto che la situazione è effettivamente problematica, ce ne sono veramente tanti. non delimitano tutto il perimetro ma quasi. prendo la telecamera io. vai. filia ha afferrato la sua palestra molto tecnologica, diciamo si, molto high tech, prima di scattare con un lecca lecca in bocca dietro a nexus. quando usciamo dalla porta e vediamo questi nexus 5 che ci stanno accerchiando, si guarda rapidamente in due punti della stanza, scaglia una freccia per attivare un sistema che è piazzato lì precedentemente per fondamentalmente far attivare una sorta di impianto anti incendio che faccia piovere dell'acqua sugli androidi e contemporaneamente attivare una specie di griglia elettrificata che contraccambi il favore dato al nostro nexus 6. ti direi destrezza è più intuito perché devi colpire bene l'intuito affinché la cosa funzioni per bene, destrezza è più intuito. allora ti chiedo è un test aperto? è un test cd 10, potresti subire conseguenze, cioè avrai successo ma ci saranno conseguenze se fai tirare il tiro. ok, nel senso non è un tiro di precisione, è un test proprio. sì sì è un test, un test. specifico chiedo per sapere che abilità potevo utilizzare. allora, quindi mi avete intuido e più destrezza giusto? yes intuido e più destrezza e faccio 6? 6, perfetto. cominciamo a vedere questa avventura raga. un 5 o un 6? gg cazzo. ho fatto 2 con il d10. anche io ho fatto 2 e 3 con il d10. scagli la freccia, il sistema si attiva, comincia ad essere mandata acqua un po' ovunque, vedi che tutte quante le armature quasi si frizzano per un istante e continuate a correre. attivi la rete elettrificata ma letteralmente scivoli anche tu e non ti blocca ma ci cadi sopra anche tu. ti direi che anche tu mi subisci lo status scosso, mi sta bene. burecco appena appena stava ballando e vede il rosso yo what the fuck e guarda fuori dalla finestra tipo vede gli schermi e si accorge yo nexus 6 i tuoi amici sono arrivati e comincia subito a tipo e prende e si mette a fare la moonwalk per uscire dalla cosa e comincia all'indietro a correre in moonwalk dietro a nexus 6 che apre la porta tutto tutto questo ti sto ascoltando con le cuffie tutto il tempo e se mi sento e corro come un pazzo e non me ne frega niente di tutto il resto ma è dentro in moonwalk si si è volto via destrezza più destrezza destrezza più vigore destrezza più vigore? ma star speravo ha destrezza più destrezza va bene va bene va bene si perchè comunque deve correre ma dai ragazzi doppio uno doppio uno raga doppio uno e va bene è possibile raga allora cosa succede col fallimento cos'è che fu col fallimento critico i nemici di base spendono un'opportunità in questo caso la spenderò io l'opportunità non so se non so se spingere tanto oppure no forse si spingi spingi così questa one shot doveva una scena allora allora non è one shot è one scene esatto se corri letteralmente lui credo che comunque sei in moonwalk hai un momento in cui ti blocchi mentre la rete viene attivata e ci finisci ci finisci scosso te lo prendi vedete sopra due x e sopra il visore a posto degli occhi quindi scosso sono scosso te lo prendi come opportunità mi prendo che subisci un altro status e subisci lo status confuso classico sull'intuito ok questo vuol dire che mi scendono in una categoria giusto si di sei ok rete rimani soltanto benissimo ito rimane letteralmente dietro figlia quindi c'è proprio come a tenerla d'occhio e davanti che cosa cosa abbiamo cosa è dopo la rete c'è la città ok e dobbiamo scavalcare la rete ipoteticamente la rete l'ha attivata l'ha attivata figlia quindi ipoteticamente siete fuori dalla rete dipende tu da dove vuoi piazzarti la scena io esco allora da lì e visto che la via è libera no giusto cioè o ci sono gli androidi fuori dimmelo tu se ne vedo uno o due arrivare io attaccherei allora non entriamo in combat ok ci facciamo la scena di combattimento con ti direi una prova di vigore più destrezza semplicemente liberi la strada anche tu agli altri ti direi tranquillamente ok allora vedete ito che manda all'indietro lo yoyo e a un certo punto lo yoyo si blocca comincia a girare su se stesso e si crea una lama dove il filo dello yoyo si irrigidisce e diventa una spada enorme a due mani i love it i love it i love it so much bellissima e inizia ad affettare se riesco posso copierne entrambi due si sia un test di tranquillamente e cerchi di affettarli in due per sbarrare la strada agli altri destrezza più vigore vai destrezza più vigore prego almeno tu oh 5 e 5 10 preciso 10 a questo punto qualcuno ce l'ha fatta meno uno a questo punto ti puoi prendere la telecamera si vede appunto questa spada che appare da questo da questo yoyo e nel mentre che stanno arrivando due nexus 5 il prende gli affetta in due proprio alla base che crollano a terra e urlo muovetevi muovetevi andiamo e faccio appunto strada aspetto che gli altri mi precedano la telecamera rimane sulla vostra base vedete che i nexus 5 si piazzano in fila in ordine all'interno della vostra base il divano viene scardinato e distrutto e la palla sfera viene completamente tipo presa da terra sentite dei passi è come se cammina ok ha degli stivaletti questa persona che sta entrando nella stanza ma una gamba la sta trascinando inoltre c'è questa sorta di cigolio mentre cammina la telecamera si alza e vedete un lungo camice la figura è un anziano ma dalla corporatura possente porta un paio di occhiali molto spessi e vedete che ci sono svariate svariate siringhe nella taschina nella tasca del camice quei maledetti non la passeranno liscia dobbiamo trovarli e impedirli di proseguire con queste ricerche non devono scoprire la verità vedete che entra all'interno della stanza praticamente rompendo la porta dalla quale siete usciti una cassa gigantesca proprio viene spinta all'interno e chiusa viene fatta scardinare e l'inquadratura gira sul davanti la mano del professore si appoggia su una corazza che è d'acciaio con te loro non riusciranno a sfuggirci prendetevi un punto fabula apriamo la scena su uno dei tetti della città vi siete riuniti, vi siete un attimo calmati state osservando dall'alto al sicuro la situazione vedete questi robot che vi stanno cercando non è una cosa che potete effettivamente affrontare da soli o comunque non in gruppo perché sono veramente veramente tanti ditemi voi a questo punto che cosa volete fare avete piena libertà vi potete spostare sulla mappa possiamo andare dove volete possiamo seguire la storia, la strada che volete non abbiamo deciso noi dove era la base non abbiamo deciso dove era la base della città io c'è una cosa che non ho capito quindi c'è un'orda di nexus 5 che continua a darci la caccia cioè nel senso noi abbiamo capito che questi qua ci cercano sì a noi ok non che tipo orda impazzita di robot cosa abbastanza normale ne orbis c'è un'orda di robot un'orda vi sta cercando sì qualcuno sa probabilmente perché comunque siete un gruppo formato anche relativamente da poco a qualcuno avete già rotto le scatole prima o poi qualcuno vi ha notato sì e qualcuno vi sta cercando quali siano i suoi veri obiettivi che sia soltanto fermarvi? chi lo sa in base avete due utilizzatori di void naturale possono essere utili utili per le sperimentazioni anche volendo eh più nexus 6 libero non è una cosa comune sì sì io ho anche qualcos'altro attenzione tu sei tu protagonista della tua storia dimmi tu che prego ragazzi ditemi voi allora attualmente siamo su questo tetto quindi la situazione è abbastanza calma avete possibilità di parlare e interagire fra di voi un tetto sarà un piano come muovervi tranquillamente sì su un tetto di un edificio molto in alto ah ok 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 io sono sul bordo del muretto sport in avanti con la chitarra guardare giù melanconicamente io ovviamente appena arriviamo ragazzi siamo inseguiti e dobbiamo fare qualcosa io io invece cioè ritraggo ritraggo indietro appunto tutta la sfada il meccanismo si ritira e diventa un noioio normale però assolutamente me lo aggancio alla cinta io poggio una mano sulla chitarra di break dance io questo è prezioso questa è tetta siamo inseguiti non è il caso di farci sentire è sempre il caso di farsi sentire non è il momento di perdere la testa io ragazzina si mettono l'antenna senti nei momenti stressati io suono ok ciò calma ti mettiti tu lecca lecca in bocca e stai zitto va bene ragazzi calmi non è il momento di perdere la testa io chiudo gli occhi e con diciamo scandaglio il mio art disc di sette giorni in cui mi ricordo esattamente tutto quello che abbiamo fatto e visto per capire se riesco a capire qualche dettaglio che mi ero a quanto pare persi qualcuno che ci ordinava qualcuno che ci osservava delle telecamere che c'erano su di noi mi stai utilizzando l'abilità del sapiente esattamente allora puoi scegliermi se usarmi un punto fabbola e definirmi tu la scena il contesto in cui siete stati effettivamente scoperti o te lo definisco io senza punto fabbola si utilizzo un punto fabbola e lo dicevo io ok quindi sentami tu la scena vedi tu come ti vuoi piazzare vai tranquillo ritorno indietro nei diciamo ricordi te virgolette fino a quattro giorni fa quando stavamo effettivamente vagando per Neo Orbis nella parte nord vicino alla mia fabbrica di origine stavamo cercando un informatore un conoscente di Burreco Dancer io stavo pensando che fosse l'ennesimo buco nell'acqua che non abbiamo trovato strano ho pensato Burreco Dancer è un tipo eccentrico ma molto preciso quando si tratta di scoprire cose sulla sua capacità in quel momento non me ne sono accorto ma delle telecamere ci seguivano si giravano in modo impercettibile su di noi seguivano ogni nostro passaggio svoltovamo a sinistra si svoltovano a sinistra anche loro oltre che le telecamere anche alcuni droni spia nexus kr che ci seguivano non ci ho fatto caso è stato un mio errore questo mio errore ha portato un rischio per i miei compagni rifletto su questa cosa in modo molto triste ma iconico qui riapro gli occhi e racconto quanto ho visto ai miei compagni comunque il mio nome è Burreco e non Burreco perché Burreco credo sia il mio cugino probabilmente il famoso Burreco Dancer che gioca a Burraco credo Burraco Dancer è un altro tipo di abilità ho capito perché tu ci vai su Neck perché ti storica il nome bello bello mi piace mi piace bellissimo comunque ah quindi è colpa tua ammetto di sì non ti sei accorto ancora una volta scusate non mi sembra il caso di essere così amari verso Nexus 6 visto che al momento non ha creato nessun tipo di problema e anzi eravamo anche lì per via di un tuo informatore da quelle parti quindi non importa chi ha beccato chi e cosa ci ha beccati quello che conta è che ci hanno beccati e ora probabilmente avranno avranno fatto a pezzi la palla la disco palla sicuro non me lo ricordare dovremo trovarci un altro posto e del moccio che esce dal caschetto sotto comunque alla fine nessuno di noi si è accorto di quello che stava succedendo quindi non abbiamo nessuno da incolpare ma che potrebbero essere? non ha alcune idea sinteticone? mi dispiace il Neorbit sta piena di gente una quantità simile di Nexus 5 credo che possano provenire solo dalla fabbrica questo è sicuro per cui qualcuno alla fabbrica o comunque che ha accesso alla produzione direi che il primo posto che possiamo indagare è direttamente sulla scena oppure andare al contrario dalla parte opposta a cercare tra chi da contro alla fabbrica proposta piazziamo un clock da da 6 piazziamo un clock da 6 perché il tempo è abbastanza dobbiamo accelerare un clock da 6 ACD 10 ok l'obiettivo di questo clock è scoprire chi vi da la caccia ok come e dove andrete starà a voi vedere cosa e cosa farete me lo dite voi durante le varie prove potete scegliere di approcciarvi in una maniera o nell'altra è tutto nelle vostre mani quindi l'obiettivo è riempire questo clock clock ovviamente è un cerchio formato da 6 spicchi chiaramente la cd è 10 vi dico che in base alla prova e al contesto che mi mettete nella prova la difficoltà potrebbe usarsi o abbassarsi ok domanda per il master noi sappiamo chi è a capo di questa fabbrica cioè chi sarà un capo azienda di questa fabbrica di appunto di vari nexus si lo conosciamo o ti chiedo e chiederò anche a federico perché non si sa mai vuoi un punto fabule dirmi tu o faccio io io alzo le mani qua ecco voi ora io ti dico che io vi dico che al capo della fabbrica c'è il dottor Albert Zed è appunto un ricercatore scientifico di fama mondiale con tutte le varie appellativi che gli si possono dare specializzato nella sintesi di protesi per gli umani per utilizzare meglio il poi ok beh direi che dobbiamo raccogliere più informazioni possibili per cui prima di metterci in marcia e si sgranchisce un attimino io mi concentro quello che voglio fare è chiamare spettroversum e unirmi in unirmi con con noi per iniziare a fare una diciamo una ricerca nel suo database ok noi cosa vediamo mentre fai questa cosa? ok allora io intanto spendo 40 punti mana wow natura wow io mi mi sporgo mi avvicino al bordo del tetto come se guardassi davanti a me allargo leggermente le braccia vedete i capelli cominciano a a fluttuare intorno alla mia testa un po' più in alto cominciano a cristallizzarsi delle particelle che cominciano a diventare solide sembra che cominciano a formarsi dei cerchi di metallo che piano piano si cominciano ad agganciare tra di loro mentre dei cavi cominciano a proiettarsi e vedete che cominciano a allungarsi verso la mia schiena e a congiungersi alle prese jack lungo la spina dorsale sul collo e sulla schiena di filia questa specie di molto più grande in realtà comunque si vede la testa all'interno dei cerchi che comincia a fluttuare intorno a lei si formano sembrano delle schegge di vetro trasparente che cominciano a spostarsi davanti ai suoi occhi e proiettano intravedete che proiettano qualcosa l'effetto della materializzazione può ricordarvi soprattutto penso a Ito la materializzazione dei void demons quando si trovano in una zona ad alta concentrazione di energia sembra quasi che sia immersa in una certa di fluido appunto su all'interno degli schermi cominciano a passarmi informazioni e qualcosa e cerco di appunto collegarmi alla rete della Magcom a infiltrarmi tra i vari sistemi sparpagliati dagli android e dai robot della fabbrica sparpagliati in giro per la città per cercare di risalire ai dati per appunto capire e trovare informazioni sui android che ci hanno attaccato e da chi stanno prendendo informazioni ti faccio una domanda vuoi congedarlo e farmi la domanda o stai facendo una prova? no, per il momento faccio una prova intuito o più intuito? ah, intuito e più intuito spettroversum hai una taglia di dato più alta, quindi si momento è intuito, quindi tiro 2 di 12 allora, spendo un punto fabbola ha fatto 11, ha fatto prima comunque ok, ho speso 3 più 8 mentre sono immersa all'interno del flusso dei dati ricordo un attimo del mio passato quando ho fuso per la prima volta la mia essenza a quella di spettroversum e la distorsione, lo stordimento dato dal flusso di dati che mi aveva accolto al suo interno mi aveva disorientato e un po' sto arrivando a quella cosa ma il mio desiderio di conoscenza è estremamente forte come all'epoca sono riuscito a domare spettroversum mi concentro per per trovare maggiori informazioni quindi rilancerò quel 3 vai meglio 14 sono due spicchi cominci a attraversare i vari firewall di sicurezza entri in tutte le telecamere di sicurezza cominci a rivedere tutte le immagini che ti passano davanti hai anche uno sguardo di effettivamente le telecamere della vostra base ma nel momento in cui la figura in questione si sta per girare si sta per rivelare il suo volto è come se il segnale fosse completamente bloccato dati cancellati era così brutto che cerchi di accedere anche a chi effettivamente ha dato l'ordine a tutti questi nexus queen 5 di agire questa notte trovi letteralmente un documento vuoto viene dalla fabbrica perché soltanto la fabbrica ha potere di questa cosa di fare questo ma chi è un documento vuoto sono permessi molto elevati quelli che sono stati utilizzati troppo elevati riferisco queste informazioni a voi non stiamo così vicini alla soluzione però sicuramente sappiamo esattamente che se andiamo lì forse qualcuno o qualcosa troviamo però è enorme la fabbrica correggimi se sbaglio Nexus è troppo grossa cioè potremmo stare lì e trovare un sacco di buchi nell'acqua si assolutamente bisogna cercare qualche informazione in più qualche contatto magari un informatore che ci è già scappato e mi giro verso il nostro chitarrista beh c'è sempre casa mia la disco non una disco beh spero che in questa la disco ci abbia qualche informatore qualche amico l'unico amico lì è questa lo mostro un ago nero sai quanta ne gira là? sono certo che troveremo qualcuno lì che ci saprà dare qualche informazione al giusto prezzo ci avviciniamo nella notte tra i fumi e i neon della città di Neo Orbis dritti verso il cuore della città dove una grande costruzione un grande edificio simile a un cubo gigantesco perfettamente squadrato completamente lucido e nero si svolge al centro non ci sono porte, non c'è niente assolutamente niente eccetto una porticina che più ci si avvicina come un effetto ottico più questa si fa grande come un grande portale bianco che porta dentro una specie di struttura antica colossale venuta dallo spazio dall'universo e mentre ci si avviciniamo lì vede sempre più persone che entrano dentro e ci sono i buttafuori che sono questi grandi robot pronti a fermare risse e altro e prendere biglietti e controllare liste eccetera c'è un sacco di gente vestita da ogni tipo tutti quanti con che ne so, gente con con body deformations vari con piercing all'interno con orecchie lunghissime cose di ogni genere e ci avviciniamo e appena ci avviciniamo io arrivo in moonwalk seguito dagli altri e la gente si ferma oh ma no è burreco denser è burreco denser grazie grazie entriamo dentro la con la povera con la povera Rebecca che cerca di non passare non era Rebecca era Cassandra porca miseria chiedo scusa Ophilia o Cassandra chiedo perdono vedete Ito che si vede già la mano tra le tempie ha già un mal di testa atroce cioè Nexus cosa sta facendo? Nexus ovviamente prima di andare in questa sud di Cetopaia si è messo l'armatura ma come ti permetti ho scuole tutti da sinistra e destra anche perché so che verso sud non sono ben visto ma so che nessuno è tanto scegliato ad avvicinarsi che il Nexus è in armatura almeno confido in questo entriamo all'interno e ci sono immagino che dentro la dentro questa specie di discoteca in realtà sia tipo una una multidiscoteca con molte sale eccetera e soprattutto la sala principale che è una specie di una sala da concerto con il palco e un sacco di gente sotto che balla un DJ sopra di cui solamente sono io in questo momento no e probabilmente qualcuno più scarso di me questa serata non è così eccezionale e mi immaginavo che insomma a un certo punto prendo gli altri da parte dico ok ragazzi prendete queste e do a ciascuno di noi una manciata di aghi neri non so se posso inventarmi che ce l'avevo o se è troppo dimmi tu master no va bene va bene lo so fermami in caso e dopo tutti i mantini manciati di aghi neri ok ragazzi dividiamoci e chiedete in giro e usateli come merci di scambio e ricordatevi divertitevi e comincio ad allontarmi nella mischia io mi volto un attimo verso nexus 6 e faccio guardando che si allontana nel suo solito moonwalk faccio ma secondo te un androide come te un robot ha gli occhi dietro perché come fa a camminare sempre in retromarcia non lo so non lo so mi ancora odio quindi voglio essere umani mi rispondo che forse un burreco non è umano magari non sa di essere un android a un certo punto vedi che gira come te nella testa di 360 gradi e non sai se è soltanto il casco che ha girato tutto avanti alla testa cosa volete fare a questo punto? c'è possibilità che voi troviate tracce di questa cosa? o che attiriate attenzione nel senso sono quasi tentati di aprire un clock contrario ma per ora non lo farò e Ito si perde c'è dentro Ito si perde vede Nexus, Six e Nelfilia che vanno io che sono tentato di stare con loro perché comunque non è proprio il mio ambiente a un certo punto però io rimango così da solo lì con tutta la gente che balla che strimpella che fa eccetera e rimango lì con le mani in tasca con questi aghi qua appunto nella tasca e sono un po' cioè c'è proprio la gocciolina che cade così azz dove cazzo vado? e per questo pensiero molto forte io a questo punto allora metterei nel frattempo che cerco loro cerco qualcuno ad occhio qualcuno che a mio avviso potrebbe venire dai quartieri quelli alti appunto verso la fabbrica io la gestirei in questo caso come una prova di gruppo si ci sta ci sta e il capo di questa prova di gruppo è Buree Crudence giustamente per forza per forza per forza che è un intuito più volontà ok ok allora quindi repe federico e fabbio mi fanno una prova di intuito più volontà a ct10 e vediamo se ti danno il più uno intuito più volontà domanda master io sono ancora scosso e confuso scosso no confuso si io ho fatto 5 no scosso è su scosso è su volontà scosso è su volontà esatto si sono confuso ma non ma non scosso adesso giusto 15 io quanto hai fatto? 18,7,15 ok un attimo hai un valore di legame con Bureeco? io si ok assolutamente si io ho realità verso Bureeco ok bene quindi Bureeco ti prende sempre il cugino Bureeco Bureeco ti prende un più due da Federico domanda pure io levo scosso? si ok scosso lo potete rimuovere chi l'ha subito si ok quindi tiro due di 10 master qui si descrive la scena dopo il risultato giusto? dopo il risultato qui si ok va bene 10 preciso è un bel più uno quindi hai un più 3 alla tua prova bella grazie ragazzi allora tiro e siccome sono scosso ho 2 di 8 anzichè avere un di 8 più un di 10 va bene lo stesso grazie 8 più 7 quindi più 3 faccio 14 15 più 3 14 anche tu prendi 2 clock all'interno del tuo let's go bello descrivimi un po' la scena in caso ti aggiungo io qualcosa va bene in realtà gli altri non mi possono vedere in questo stato ma sono piuttosto confuso in questo momento da tutto ciò che sta accadendo e quindi mi reco silenziosamente lontano dagli altri nella nella sala da blues e lontano tutte quante le luci soffuse blu e io comincio a suonare la chitarra al centro su una chitarra che naturalmente non è una chitarra normale riesce a fare dei suoni da sassofono anche se è una chitarra comincia a formarsi una certa folla attorno e tutti piangono si commuovono eccetera tutti quanti e alla fine mi muovo tra la folla mi siedo a un tavolino e noto lo sguardo di qualcuno che mi sta osservando e mi avvicino e lo riconosco è un ragazzino che conosco che si fa spesso strada in questi locali apposta per comprare roba da me ma è un tipo sveglio si chiama Flynn perchè va sempre in giro con una pietra per accendere il fuoco come se fosse nell'era della pietra non so cosa sto dicendo ma va bene si assolutamente sono andato a ruota libera ne vuoi uno? il solito? no non il solito dammi qualcosa su alberzed ok faccia subito tira fuori un laptop vecchissimo tipo anni 80 e scopre informazioni aggiuntive che non so inventare per continuare perciò chiederò aiuto al master tranquillamente e dico bravo Flynn sei sempre il migliore vedo subito tre aghi neri e mi porto via un microchip da inficcare nella testa di Nexus quando sarà quando lo rivedo aghi neri overdose assicurata allora magari visto che mi hanno aiutato aggiungendo altre informazioni che immagino loro abbiano scoperto da altre parti nel senso la serata passa e finisce vi ritrovate tutti quanti alla fine della serata con ancora la musica che pompa ma la discoteca è completamente vuota le informazioni che più o meno la discoteca non è mai vuota le informazioni che più o meno tutti quanti riuscite a racimolare tra chi lavora al computer chi ha parlato è che il dottor Zed è fuori da svariati giorni dalla fabbrica e non è reperibile da nessuno e si è portato dietro un po' di robot a questo punto il nome del clock non è più scoprire chi ci dà la caccia ma dov'è chi ci dà la caccia rimangono due spicchi che dovete completare in qualche modo perché la sua posizione è attualmente sconosciuta sapete che si è mosso nei quartieri vicino alla vostra base ma adesso si sarà di nuovo spostato ricordo che a questo punto la nottata è quasi finita l'alba si sta avvicinando io mi giro verso Hito o Kiyuka sei un cacciatore no? un abbi e competente di sicuro stanare le prete è la cosa che ti viene meglio sì prete è sicuramente non umane però potremmo provare ad andare su andare da dove vengo io non sei molto ben visto ma probabilmente ci daranno un occhio se sei con me si spera beh che ci siamo già no? no noi siamo proprio al centro la mia discoteca non sta nella zona malfamata questo sintetico continua a dire stronzate è incredibile ti guardo non capisco se tu sbaglio il nome ti scruto nemmeno io lo capisco qualche volta non direi di gestirla di nuovo come una prova di gruppo ma me la fai tu Hito come prova per cercare informazioni all'interno della zona malfamata qualcuno sicuramente potrà sapere qualcosa ti abbasso la difficoltà a 8 ok perché qui è molto più facile che qualcuno tradisca il professore in questo senso quindi ci può stare certo io ti direi sì intuito più volontà 4 più 3 7 7 io mi giocherei un punto paura mi puoi invocare identità tema origine mi devi descrivere un mini flashback riguardante quello che mi invochi a voi in mente una roba io da diciamo da cacciatore ho una persona fidata che mi trova le prede all'interno della zona della zona malfamata non mi individua spesso le persone sono più ovviamente i void demons però ok questa persona ha un giro di allora mi dovresti spendere un punto fabula per ritirare e un punto fabula per generarmi questa persona aggiuntiva questo PNG immaginavo sì sì ti do un più 2 al tuo ritiro perché mi piace come cosa mi va bene ti do un più 2 al tuo tiro sì sì io ti rispendo entrambi io ho questa persona appunto e ha un giro di telecamere cioè non per forza su tutta la città però comunque ha un bel giro grosso di telecamere anche nella zona dove doveva in cui stava anche la nostra la nostra base la persona si chiama Mike ed è questo questo ragazzo su una sedia a rotelle però ovviamente non una sedia a rotelle di quelle classiche un po' più elaborata e c'è i neon esatto è uguale ma c'è i neon esatto scherzo è un hoverboard in realtà però più più grosso e appunto amici di vecchia data e appunto andando da lui mi potrebbe trovare la la persona che stiamo cercando almeno comunque un minimo diciamo almeno ridurre il campo restringere il campo per cercarlo meglio in quella in quella zona per non vagare per ne orbis a caso ok vai puoi ritirare se vuoi e hai un più due alla tua prova dieci dieci totale e tu ti chiederò perché questo ti riempie soltanto uno spicchio vuoi giocarti un altro punto favola mettere dentro un legame e arrivare a undici e completare il clock o ci lo teniamo così no no tu lo spendo e ci butto dentro il legame che ho con con figlia io vado dopo che c'è appunto mike che fa eccetera guarda io ho figlia dovessi dare una mano però mike individuare meglio e appunto si tracciare meglio soprattutto tu che hai accesso puoi avere accesso alla magcom sarebbe abbastanza comodo e utile in realtà in realtà anche senza accedere direttamente a aspetto verso con gli accessi di mike e le mie capacità metto a a trafficare per dagli manforte allora tra i vari schermi tra le varie informazioni ottenete la posizione del professore inoltre con le informazioni che avete ottenuto potreste avere anche un passaggio più o meno sicuro attraverso la sua base per raggiungere effettivamente da lui c'è l'ufficio praticamente la sua sì potenzialmente sì io non so quanto sia sesso combatterlo dentro la fabbrica no mi stavo per dire la stessa cosa riesco a combatterlo per le strade dove il dissenso verso comunque la fabbrica si fa sentire abbiamo comunque anche Ito che arriva dalla zona malfamata Burreco conosce estremisti antisintelici anti robot mi sembra più saggio combatterlo in un territorio più stile a lui rispetto alla sua fabbrica descrivetemi voi come vi piazzate per questa imboscata dove vi piazzate per questa imboscata letteralmente come abbiamo fatto all'inizio della presentazione del personaggio fatemela in questo frangente per dire dove vi piazzate sul campo di battaglia mi metto in mezzo in mezzo alla strada davanti a lui col cappuccio tirato giù ok tirato su scusate e giocarello con lo yo così e che zar e aspetto una risposta a un suo movimento per un ordine verso i suoi robot ora non so se sei da solo oppure c'hai robot dietro però io aspetto e sono lì che aspetto e il giocherello un palazzo di vicino voglio attendere che Ito attragga la sua attenzione per poi piombare proprio saltare più in mezzo al campo di battaglia ipotetico azionando all'ultimo secondo lo scudo gigantesco che mi si apre dal braccio sinistra io mi voglio mettere invece vedendo Ito che si posiziona quando arriviamo là vedo che Ito si posiziona lì in fare scena con lo yo yo e penso questo ragazzi non ci sa fare mi metto in un angolino dietro in tipo dietro un vicolo e decido ok questa è la sua scena e comincio a fare una una melodia per settare il mood tipo per Ito quindi sono nascosto pronto ad attaccare ma intanto sto già settando la musica per attirare l'attenzione ancora di più subito non è che stai suonando cioè non è che sei nascosto perché si sente non nascosto ma in realtà sono nascosto per dire sei tipo dietro le quinte che poi entri tipo non è un vero nascosto però è solo per far più scena io sono seduta su il parapetto di un di un altro tetto che guardo lungo i palazzi la strada l'incrocio in cui al centro Ito sta giocando con lo yo-yo mentre sgambetto con le gambe sospese per aria succhiando un altro lecca lecca mi rigiro una fialetta tra le dita e quando intravedo qualche movimento a distanza me me la pianto per ricaricarmi 40 punti mana che avevo sparato quindi uso un ether yes 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 nice nice il professore è nel mezzo della strada cammina abbastanza fiducioso lo vedete proprio spavaldo nei vostri confronti e ti fissa dritto negli occhi Ito avete deciso di farvi vedere alla fine dove sono i tuoi compagni basto io non ti preoccupare mentre sente la musica mentre sente la musica i compagni vedi che è da solo non ci sono soldati sono anche abbastanza in lontananza i soldati probabilmente trattenuti da una folla più in là probabile che ci sia stato uno scontro e ci siano dovuti fermare appunto per doversi per dover combattere lì basterò solo io per combattervi e vedete che tira fuori dalla talmente dalla sua saccoccia una penna tipo di guardia di Percy Jackson la preme spada tiriamo iniziativa ragazzi oh ora master sono ancora confuso io si confusione si la confusione è di resta puoi usare un punto inventario per utilizzare un tonico e toglierti il coso però è un'azione ok non potevo farlo prima vero perché non lo sapevo potevi farlo si dai te l'ho fatto per prima però mi devi ritrovare i punti inventario ti ringrazio molto quanti ne devo spendere di punti inventario due due ok rimangono quattro allora mi sono allora mi sono fatto anch'io un tonico un tonico grazie perdonatemi figurati prendo un punto fabola perché un cattivo entra in scena no io leggevo quindi ho chiesto si si no lo so ma no è è di vera prima ve l'ho dato io ve l'ho dato prima il motivo per cui avete preso il punto fabola allora in questo caso inizio io quindi un attimo che mi faccio la schienino ma di base questo è molto semplice vedete che la spada la lancia letteralmente e comincia a muoversi intorno a lui vediamo chi sarebbe oh wow ok due tre e quattro conto che io non ci sono cioè io sono nascosto dentro giusto c'è soltanto rep attualmente in cosa vedi soltanto rep sarà bersagliato da questa cosa per il momento non ti preoccupare dimmi la tua difesa fisica difesa fisica undici undici passa sono undici danni letteralmente la spada ti taglia di sopra tocca a voi e voglio specificare tocca soltanto a voi quindi ora siete tutti e quattro uno di seguito all'altro ok stavo giusto per chiederti se lui faceva più turni infatti ok va bene lui che cosa mi ha lanciato la spada dall'altro la spada è probabile che in realtà la stia muovendo geneticamente perché gli sta tornando indietro ok gli sta tornando indietro allora io cerco di fare uno scatto in avanti appunto mettendo in avanti lo yo-yo trasformandola in spada e cerco di appunto andargli addosso proprio penetrandoli cerco di andare prima che la spada gli ritorna gli ritorno in mano in modo che non abbia modo per difendersi vorrei tirare un fendento scuro nel mentre che vado in avanti si vede Ito che ha questa energia tutta scura nera violacea che lo lo ricopre e ricopre per poi da ricoprire lui e ricoprire tutta la spada ok e vedete che cioè soffre quindi mi tiri il dato in vigore per vedere quanti danni subisci dal fendento scuro quindi subisci sei danni e prendi sei sei più no sette hai danni sei più due sei più due giusto sei più due hai danni ok sei più due quindi otto o faccio otto danni in più giusto yes otto danni in più tira per capire che è vigore 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 destrezza più vigore di dieci più di otto porca puttana non ha fatto tre oh niente raga tipiche il pre-boss il fendente va letteralmente a vuoto lui si sposta banalmente tutta qui la tua forza Fidia rimane ferma sta semplicemente guardando la la scena studio il professore troppo tre 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 mi piace tre porca merda venti è un critico c'è un'opportunità venti hai un'opportunità gg finalmente prima di tutto ti dico una cosa brava figlia brava figlia allora prima di darti prima di spendere l'opportunità ti do tutte le informazioni anzi facciamo così faccio una cosa ti passo direttamente sul drive la scheda del personaggio la scheda del png sì perché praticamente con venti ho saputo tutto wow ci sta direi che è più che lecito come opportunità guarda la scheda ah già ma noi non possiamo vederla vero? meglio se non la guardiamo? sì sì la potete avere tranquillamente anche voi perché l'informazione è disponibile a tutti sì sì anche perché adesso ve lo comunico io utilizzerò l'opportunità per scegliere l'opportunità oggetto perso un oggetto viene distrutto perso rubato o abbandonato e per metterla in maniera narrativa con un movimento con un movimento unico in realtà faccio partire un dardo dalla dalla balestra che va a colpire quella che ho identificato come un punto di agganciamento di chiusura della coratta d'acciaio che salta e apparentemente tipo sì come se fossero tre componenti che la tengono che la tengono agganciata a lui si sgancia si apre in tre parti cadendo a terra liberandolo da questo impaccio che gli dava l'armatura nice si gli dava fastidio porello ti mandano nexus e durecco grazie nexus vuoi andare tu o io come vuoi è semplice io mi butto finalmente giù dal dal mio nascondiglio mi cado proprio traito e il dottore istantaneamente quando tocco terra tiro un un solito pugno al mio braccio sinistra e metto una luce blu e un si si attiva e vorrei utilizzare per fare guardia su ito e quindi parare gli attacchi in miss io intanto esco dal 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 vicolo ito non ti arrendere avrai una seconda opportunità dai tu la star oggi e uso incoraggiamento su ito spendo 5 punti mente per fargli recuperare 10 punti vita e il suo valore di mi pare che tu c'hai vigore massimo giusto hai vigore di 10 e destrezza io c'ho 10 ok mentre vigore c'hai di 8 di 8 si e tu utilizzi destrezza e vigore per attaccare giusto e yes ok scegli tu tra destrezza e vigore una di queste due ti sale di una taglia fino al mio prossimo turno facciamo di vigore direi di 10 di 10 quella che tu ritieni più utile ok sei tu la star e faccio un assolo per rito e spendo 5 punti mana 5 punti mente thanks e prendo anche 10 10 di vita oh yes recuperi fino al massimale non puoi andare oltre no no per esempio c'ho 55 di massimo quindi adesso sono a 48 il dottore a questo punto vi siete rivelati tutti quanti e tutti sono qui per supportare proprio te tu nexus 6 non ti metterai sul mio cammino e scaglia la spada appunto contro di te ok teoricamente il suo bersaglio è l'Aito ma ci sei tu di mezzo quindi deve per forza attaccare te mi piace la vinta la tua armatura ho 12 più 2 dello scudo 14 la spada impatta sul tuo scudo yeah e torna indietro va a vuoto anche lui tocca a voi nel mio menu a destra il il gigantesco martello parte la carica in un montante sinistro per diciamo abbatterlo faccio 9 più 7 16 a voglia ok e scusami tm più 6 sarebbe tiro maggiore maggiore 9 più 6 15 danni il cartello impatta ma senti che la botta non va bene anche se la sua armatura è caduta è come se la sua pelle fosse diversa dal normale subisce solo 7 danni che ricordi che è resistente al danno fisico padre cosa non è più è giusto è giustissimo giustissimo nice a voi io vedo la martellata che gli ha tirato e allora faccio uno scatto per andare dietro al dottore e rilancio rilancio un fendento scuro tira di nuovo il dado di vigore 1 1 subisci un danno subisci un danno e diventa e diventa cioè più 3 ai danni totali però c'ho di 10 più un di 10 yeah that's good boy bella 5 più 6 si lo colpisci tranquillamente con danni si 19 sono 19 danni da ombra quindi vedi che il taglio il fendente oscuro passa e gli fa effettivamente danno la pelle viene graffiata pesantemente perde non diverti che sangue quanto più icore nero tocca ancora a voi vedendo lì con il nero avendo visto che ha resistito il quanto bene al colpo di al colpo di nexus mentre sono un altro solo ah no giusto dove scriverò dopo scusami faccio scusami io uso umbra praticamente uso un incantesimo umbra per colpirlo cercare di utilizzare il mio potere oscuro del vuoto è intuito più intuito più volontà il mio quindi è un d8 più di 10 faccio 12 critico doppio 6 doppio 6 sì ok allora prima di tutto colpisci dimmi danni allora opportunità c'è scritto ah scusa prima ti dico danni giusto 6 più 15 danni da ombra 21 danni spendo 10 punti mente vedi che viene letteralmente quasi risucchiato all'interno di questa sfera di vuoto immagino che fai sì sì l'idea era sì sì esattamente tipo un buco nero attorno a lui vedi che il licore che viene risucchiato è quasi dello stesso colore del buco nero il suo corpo si sta effettivamente svuotando e la tua energia diventa come più forte ok per opportunità qui c'è scritto che su ombra c'è scritto ciascun bersaglio colpito subisce lo status debole perfetto su un'opportunità quando io subisco automaticamente lo status debole perfetto sì ma è oltre l'opportunità che decido io oltre l'opportunità ma che figata ragazzi io ti dico ti faccio dire passo falso scende una creatura scena che finisce per fare un'affermazione compromettente decisa da chi la controlla quindi si direi ovviamente il dottore e magari ci rivela qualcosa di utile preso dal dolore magari dal panico non lo so qualcosa del genere ti dico che come tu lo colpisci gli cade di mano un telecomando definisci appunto che un telecomando e vedi che è attivato sul telecomando c'è scritto Nexus 7 no I knew it sapevo che eri superato e dico Nexus 6 che merda io imbraccio la balestra un colpo un colpo è quando sto per premere il grilletto grido a tutti quanti allontanatevi da lui scappo via mongolk io mi metto il mio colpo dietro a Nexus io mi metto la balestra destrezza più intuito ma io ho la mia capacità a sapere e potere per cui quando faccio un tiro di precisione posso sostituire una delle caratteristiche con intuito quindi tiro intuito più intuito 14 non è critico non è critico ma prendi e faccio 9 più 8 17 danni fisici vedi che come la tua freccia colpisce la sua carne e mi butto indietro indietro il parapetto yes mi fate dato che comunque lo sapevate dell'esplosione finale che ci sarebbe stata mi fate una prova di destrezza più destrezza tutti e tre tu sei a posto filia ti sei lontana eh sì io posso utilizzare protezione per prendermi danni anche di sì puoi farlo puoi farlo l'esplosione come vedi il professore davanti a te esplode letteralmente e tutto il liquore si espande intorno vieni colpito subisci 10 danni da ombra ok fai di dico stessa cosa nexus anche tu 10 danni da ombra e repe tu quanto hai fatto? 9 il progetto protegge tu si protezione quindi per 2 io 20 20 danni nexus si piazza davanti a te repe e tu vieni completamente mancato per la sua stanza io mi giro perché per l'esplosione poi quando mi volto vedo che lui è completamente grondante di core che lo sta letteralmente quasi consumando in certe parti fa proprio male questa cosa sulla scena si sente il ti 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 del telecomando che è rimasto l'unico suono per tutto l'isolato io tipo mi affaccio dalla dalla cosa dal dal parapetto sempre con lecca lecca con la basso lecca lecca in bocca e guardo giù faccio merda che l'unico suono Grazie.